L'incontro oggi è finalizzato a ridurre la transizione degli studenti verso il mondo della scuola. È sceso in campo il centro per l'impiego che accompagna i ragazzi verso il mondo del lavoro secondo un percorso che è una bruna prassi a livello nazionale, quindi la Calabria è l'esempio per la nostra nazione di come si accompagnano i giovani verso il mondo del lavoro. Partiamo dall'orientamento con l'accompagnamento e le imprese che fanno le selezioni e poi puntiamo l'obiettivo di portare a lavorare i nostri giovani. Con riferimento alla Lopide, abbiamo qualche dato? Sì, il tutto nasce anche da un aspetto importante. La Regione oggi ha un osservatore del mercato del lavoro che ci dice, ci dà dei dati importanti sullo sviluppo di quest'area. Anche il settore turismo che è stato attenzionato alla Regione e ci ha messo a disposizione il programma Goal proprio per dare una risposta ai tanti imprenditori che cercano lavoratori. Quindi da un lato abbiamo l'offerta e dall'altro la domanda. Ora dobbiamo puntare all'incrocio per raggiungere l'obiettivo del mismatching. È considerato che il centro per l'impiego segue un'utenza che va da Palizzi a Monasteraico, quindi un'utenza enorme che è gestita solo dalla sede di Locri perché primamente c'erano le sedi locali di Caolonia e di Bovalino. Ora attualmente quella di Bovalino non è operativa, è operativa, incomincia ad essere operativa quella di Locri e di Caolonia, però diciamo che la maggior parte dei lavoratori è gestita dal centro di Locri. Quindi sono parecchi, tantissimi, diverse migliaia che ovviamente richiedono tanta attenzione perché come ben sapete c'è in campo il programma Goal con tantissime misure da sostenere che complicano con pochino l'andamento dell'ufficio, nel senso che i servizi a volte non possono essere erogati in maniera completa, in maniera totalmente efficiente proprio perché è un'utenza vastissima. Ma le ripeto, grazie a questi nuovi, c'è stato il potenziamento del CP, sono arrivati nuovi elementi, ci sono buone competenze e ovviamente dobbiamo dare loro il tempo di formarsi e di sicuro riusciremo con l'ausilio di questi ragazzi abbastanza capaci, abbastanza propositivi ad affrontare quelle che sono le tematiche del lavoro e del mercato del lavoro che voi sapete sono tematiche di un certo rilievo al nord, problematiche direi, ma pure in particolare al sud. Lei che è un po' il polso della situazione, riguardo proprio il mercato del lavoro, qual è la mansione più richiesta qui nella locale? Allora, diciamo che le mansioni più richieste, ovvio, lei lo sa, è il settore turistico, il settore che va alla grande, quindi sono tutte mansioni strettamente legate a questo settore. Ora, noi speriamo, voi sapete che con il programma Goal, il programma Goal prevede dei corsi di formazione per i lavoratori, quindi vorremmo, cerchiamo pure di, attraverso determinati questionari che la regione ha realizzato, cerchiamo di capire quali sono i fabbisogni effettivi nel territorio di lavoro e con questi corsi di formazione vorremmo proprio, diciamo, dirigerli verso questi settori in cui c'è maggiore richiesta di lavoro. Speriamo di farcela, speriamo di raggiungere l'intento. L'impegno della regione Bellarocchi, come per tutta la Calabria, di trovare soluzioni alla situazione di evidente disoccupazione che c'è nella nostra regione, in particolare in modo nel mondo giovanile. Oggi siamo qui per sottoscritti una convenzione con gli scolastici, con le aziende, proprio per creare condizioni positive di crescita per i giovani, in questo caso, in questo caso della Lombia. Solo attraverso la sinergia con le istituzioni protagoniste di questo percorso, possiamo garantire ai nostri giovani, in un futuro diverso, la possibilità di rimanere a vivere in Calabria, che è il loro sogno, il loro sogno di tutti, garantendo il lavoro messo in zero. Come Dipartimento Lavoro abbiamo tante risorse da mettere in campo e per sostenere i percorsi di formazione, per sostenere anche le assunzioni da parte delle aziende, come ho detto più volte, le aziende devono impegnarsi ad assumere le persone con contratti di lavoro regolare, quindi dando la vostra possibilità appunto di rimanere a vivere qui da noi. Riesci a darci qualche numero rispetto a questo ultimo dato? I numeri sono, come Dipartimento Lavoro abbiamo oggi il panorama di tutti i numeri disoccupati della Calabria e attraverso il programma GOL, che è un programma di presentazione, di orientamento e formazione, abbiamo tantissime persone anche nel territorio della Lopride, un bacione che va appunto da Lopride, da tutta la Lopride, ci sono dati attenzionati, ci sono persone profilate e orientate in tanti comparti, ci potrebbe essere lavoro nel turismo, nell'agricoltura, nell'edilizia, nel terziario, le opportunità ci sono, i giorni ci sono e questo smentisce il fatto anche che spesso, in particolar modo nel turismo, senza morire che non si trovano l'opera. Noi siamo in grado di smentire questa cosa, di ribaltare e di fornire anche attraverso Ampar Servizi, oggi che è il nostro braccio operativo, braccio operativo anche dell'inisterio che oggi sviluppano l'Italia, fornire personale formato e qualificato. Oggi è una giornata per me particolarmente felice perché il progetto che stiamo presentando oggi all'Ocri è stato per la prima volta in via sperimentale svolto l'anno scorso, a partire dal 2022 presso il CP di Reggio Calabria. Questo progetto ha coinvolto una rete, una rete di soggetti istituzionali che operano nel mondo del lavoro, parliamo di Camere di Commercio, parliamo di consulenti e fondazione dei consulenti del lavoro e di compindustria. Inoltre è coinvolto tutte le scuole principali di Reggio Calabria, è un progetto che vuole accompagnare i giovani in uscita dalle scuole, particolarmente le quinte classi nel mercato del lavoro, cercando di favorire l'incrocio tra domande aperte di lavoro. Abbiamo creato una banca dati dove abbiamo raccolto tutte quelle che sono i principali fabbisogni delle aziende e le abbiamo messe in racconto con le professionalità che ci sono nelle scuole, nelle quinte classi. È chiaro che questo progetto prevede più base, innanzitutto prevede dei laboratori di orientamento nelle scuole che verranno fatte da uno dei principali partner del progetto che è Ampal Servizi, oggi sviluppo Italia e inoltre questi laboratori nelle scuole verranno fatti anche dagli operatori dei centri per l'impiego. Oggi i centri per l'impiego hanno tutte le professionalità adeguate per svolgere anche queste attività di orientamento perché è stata portata quasi a termine l'attività di potenziamento dei centri per l'impiego che ha visto il reclutamento tramite concorsi pubblici di circa 400 unità di personale con vari profili. Dopodiché il progetto avrà a maggio una lapice con il cosiddetto job day, cioè una giornata in cui le aziende incontreranno i giovani uscite dalla scuola. Già dalle esperienze che abbiamo avuto sul Reggio Calabria abbiamo avuto dei riscontri positivi nel senso che alcune aziende, alcune pugliesi hanno condotto dei collochi, collochi che poi si sono trasformati in tirocini formativi e anche in rapporti di lavoro. Sono Maria Antonietta Rulli, la responsabile del Centro per l'impiego di Lodri. Innanzitutto un caro saluto e un grazie a tutti voi presenti per la partecipazione a questo incontro che è stato organizzato per dare l'avvio al progetto Insieme creiamo il futuro di cui fanno parte gli ordini, gli enti più rappresentativi nel mercato del lavoro del territorio della Locride e della Piana. Un grazie particolare all'assessore, il dottore Giovanni Calabrese, assessore regionale al lavoro per la sua sempre attenta devozione, quindi proprio disponibilità verso tutte le tematiche del lavoro. Un grazie particolare che lo dovete consentire, io faccio parte del Centro per l'impiego di Lodri, quindi siamo molto vigili come locazione all'assessore, quindi lo devo assolutamente ringraziare a nome di tutti i colleghi per la disponibilità a conferire spesso e volentieri con noi in merito alle problematiche del CP di Locride che ovviamente sono simili alle problematiche di tutti i CP. Ringrazio pure il dirigente generale del Dipartimento, no questo non c'è, il dirigente del settore funzioni territoriali per l'impiego area sud regione Calabria, il dottore Sergio Testassone, anche lui molto disponibile, anche lui molto attento alle problematiche dei centri per l'impiego, del nostro centro per l'impiego forse diciamo anche qui siamo stati un pochino fortunati perché spesso e volentieri prestano servizio all'Ocri presso il nostro ufficio del lavoro. Un ringraziamento al responsabile Campania Calabria di sviluppo lavoro Italia, dottore Michele Raccuglia, un ringraziamento al dirigente scolastico dell'istituto di istruzione superiore Guglielmo Marconi di Siderno che è rappresentato da un sostituito in questa sede dal referente Scarpò Salvatore, un ringraziamento al vicepresidente di Confindustria di Reggio Calabria, il dottore Giuseppe Febber, un ringraziamento al presidente, no forse è la Tuzzo che è stata in sostituzione, quella dell'ordine dei consulenti, c'è stato un errore, quindi un ringraziamento al presidente dell'ordine Giuseppe Rosario Logozzo e al vicepresidente di Confindustria di Reggio Calabria, Giuseppe Febber. Colgo l'occasione pure per ringraziare i colleghi del CP di Locri e di Gioia Tauro e gli operatori di Ampal Servizi per il servizio prestato affinché si potesse dare attuazione al progetto di cui parleremo oggi, insieme creiamo il futuro. Un saluto alla collega Franca Laganà, la responsabile del centro per l'impiego di Gioia Tauro, con la quale ci troviamo oggi seduti a questo tavolo perché assieme, ovviamente ognuno per la competenza del suo territorio, avviene di noi, avvierà questo progetto che è frutto della collaborazione tra Ampal Servizi e i centri per l'impiego di Gioia Tauro e Locri. Grazie a tutti.